Sono salite ad almeno 150 i morti dell'ultima strage in Yemen, nella capitale Sana'a. Decine degli oltre 500 feriti versano in condizioni disperate. Un massacro provocato dai rider realizzati dai caccia della coalizione sunnita guida saudita. Questa almeno la denuncia dei ribelli shiiti uti. Centrata in pieno dalle bombe, una cerimonia funebre. Gli aerei hanno colpito due volte, dice un testimone. Non sappiamo quante vittime ci sono, ma ci sono tantissimi civili feriti. La coalizione a guida saudita ha negato di essere responsabile della strage, ma già in passato i raid avevano centrato obiettivi civili, come un ospedale di medici senza frontiere lo scorso agosto. Nell'attacco erano morte 19 persone. Washington, dopo questa ennesima strage, ha annunciato di voler riconsiderare il suo appoggio alla coalizione militare.